la cosa che più mi piaceva sin da bambino era proprio saltare è troppo bello a livello istintivo come sensazione sentirsi in movimento senza muoversi è solamente camminando tanto che si può trovare il luogo perfetto c'è un'urbanistica che con la neve riesce a vedere in un altro modo il fatto di uscire di casa puoi andare a cercare lo spot con l'amico è il lato più bello dello snowboard a La montagna, secondo me, è dove ogni uomo dovrebbe vivere, in cui si riesce ancora ad avere un po' di sintonia con quello che noi non abbiamo creato, ma da cui noi siamo stati creati. È natura, ho bisogno di rimanere umili sempre. Sei te che devi interpretare quello che ti ha fornito. La montagna, secondo me, è vero. È una maniera per sentirsi vivo, non per misurarsi.